Presidente, accordo letta-calenda, intanto come lo valuta? Poi possiamo dire che questa intesa certifica la corsa solitaria dei 5 Stelle. Un accordo elettorale, da Germina a Calenda, da Letta a Speranza, significa una presa in giro per gli italiani. C'è disaccordo su tutto. Chi vuole la patrimoniale, chi non la vuole. Chi vuole tutelare l'ambiente, chi parla di trivelle e nucleare. Noi invece ci presentiamo con misure e impegni precisi che rispetteremo. Ma qual è lo stato di salute dei 5 Stelle che comunque continuano a perdere pezzi? Ma è ottimo perché un buon 80% degli impegni assunti li abbiamo realizzati. Abbiamo portato l'Italia a 209 miliardi all'Europa. Abbiamo salvato un milione di cittadini dalla povertà. Abbiamo contribuito per contratti stabili per i giovani, 230 mila nuove assunzioni per gli under 36 e ancora abbiamo rilanciato il settore delle costruzioni che ha contribuito a quel 6,6% di PIL. È scontento del mantenimento della regola del secondo mandato? È una regola fondativa per il Movimento 5 Stelle. La rotazione offre la garanzia ai cittadini che i portavoci e i parlamentari perseguiranno, saranno a servizio, a difesa dei loro interessi e non dei propri interessi personali. Ma come sceglierete i prossimi parlamentari? Tre qualità. Competenza, passione e coerenza con i valori del Movimento 5 Stelle. Io garantirò tutto questo, ma alla base ci saranno le autocandidature e la votazione degli iscritti. Di Battista sì o di Battista no? Di Battista, Alessandro è una persona seria, è una persona assolutamente leale. ci confronteremo con lui e vedremo se condividerà questo nuovo percorso con queste regole statutarie, questa carta dei principi e dei valori. Tre punti caratterizzanti del programma del Movimento? Abolizione e lira per tutti gli imprenditori, per i giovani contratti stabili, parità uomo-donna, salariale, congedo, paternità, salario minimo legale, contrasto e ogni forma di precariato. Grazie.